Vai, appena c'è di flare, spara gli emissi Bang! E lo fa, e lo fa Allora Luca, aspetta un attimo, Luca, aspetta un attimo Aspetta Luca Uh, c'è un altro helicottero davanti a noi, porco zio Eh, pure a me sta la gara, non è l'helicottero Vai Luca, scusa, spara sul C1 Anzi no, aspetta, vai pure a me Qua su A2, A1, ti faccio sparare a lui, madonna che lag Vai Lu, è pieno, magari mi vedi Pure sulle montagne a destra, A1, stanno a prendere Cazzè, hai finito i colpi Guarda su, la montagnella a destra di A1 è pieno Il settore eco è sotto controllo Bravo I alleati attaccano Alfa 1 Bravo Luca Aspetta, mi sposto, intanto tu dovrai ricaricare i colpi, sicuro Capisci, ho detto aspetta È più difficile sparare mentre sto in movimento No, a Luca gli sto a faffare tutta la panteria Guardalo, guardalo, guardalo quanto uccide, guardalo Leo, spostati come gunner per sparare, no? Ti metti alto Come facevamo sul 4 Ah Vabbè, basta che lo metto Uh, elicottero, elicottero, Leo, aiutaci Eh sì, lo so, sui raggi intelligenti Non vedo più elicottero, regà Mi sa che si è schiantato, eh Ah Arrivo Ok, fatto Bravo, amico Bravo Oh C'è un carro dopo uno, regà Famolo, va A me lo aggancia Però poi non gli posso fare niente I razzi e gli sparo non ne fanno manco il solletico Che cazzo Ah, è morto, ok Ancora a me A due, Elu, a due Hanno preso il settore Echo Ah, ecco chi è che mi puntava Dove sta? Ah, sopra di me Vai Non c'è di fregno Perchè non me la aggancio più? Pureo Perchè non me lo colpisce? A uno, Lu Guardalo, guardalo, Luca Uh, carrito sotto di noi Bravo La task force è chiaramente indebolita E lo fa, signori La prima kill con i zuni Che non so zuni Vabbè Esatto, esatto Leo, c'è un'elicottero che sta sparando davanti a te Colpito, fatto Bang Eh, sì Vai, Lu Te faccio sparare Uh Su C1 Allanciamo il carro E giusto Forse io lo aggancio Ed è Luca che gli deve sparare qualcosa Sai? Perchè io non Boh Ci stanno a sparare RPG Aspetta Guarda No, pure Luca Punto verde c'è uno Qualcuno con l'RPG Abbiamo il settore bravo Ci stanno a sparare Uh, l'ho fatto io Ci stanno a sparare quei cazzo di RPG Da ste parti Me do allontanare A me stanno a bombardare roba Eh, infatti Ma vattene No Stai andando a base, no? Eh, io stavo a rompere un bel po' il cazzo Vediamo quanto sta a far Luca Chi è? 12 kill Inizio partita Allora, avvicino a uno Più di tanto Se potremmo allontanare Eh, lo hai dici Intanto c'è la festa su A1 Aspetta Aspetta Non capisci Luca A me lo posizionavo Le nostre truppe hanno perso un obiettivo Aspetta, mi sposto Eh, sì, sì, sì Esatto Morto Morto Eh No Ottimo lavoro Controlliamo la maggior parte dei settori È giusto Aspetta, l'uomo posiziono Stanno tutti sulla montagnella davanti a noi Andando alfa 1 Vai Aspetta, giro Vai Hanno il settore delta Oh Raggio Dalla Ok, l'hai visto Guardalo Ci stanno a fare dei lisci Glamorosi Questi RPG Oh Qui c'è uno C'è uno La punto verde Bravo Aspetta Aspetta, l'uomo Ti faccio sparare su a uno Vai Obiettivi Ecco conquistati Settore sotto controllo Forza adesso possiamo anche avanzare un pochetto Proviamo Gipetta tutta a destra Guardate No No Cazzo Ma pure su B1 Possiamo andare Un bel supporto Vai Non controlliamo più Bravo Uno Il genico ha catturato il settore Bravo Ok Subbivano Non si può andare Niente Subbivano Non sanno Non sanno I cazzo De Stinger Non so Do cazzo Andare Non ci Ah C'è un litro Che bel costruttore Noi Luca Bravo Se non li fermiamo Prenderanno tutti i settori Sì 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 Si è buttato Lu Laddo è morto Ora ti lo trovo Vai fallo Le nostre forze sono dimezzate Ma Va bene C1 Lu Guarda qua sotto E' pieno E' pieno di gente qua sotto E' pieno di gente qua sotto E' pieno di gente qua sotto Stai a vedere Luca Guarda tu sta uccide Oh RPG Porcozio Mi abbiamo scossi Direi che siamo a metà dell'opera Mi sposto un attimo Cioè mi metto meglio Sotto di noi Ho deciso l'ultimo Stanno altri due Sempre la solita montagnella Tra 1 e C1 Esatto Un altro che scende Buona Buona Aiutiamo a 2 A 1 Bravo A 1 a 2 C'è la festa Proprio Oh ma questa dribbla Ah no doppia Vabbè Ecco fatto Missile in arrivo Ma questi se si incazzano qua Che gli stinger Siamo fottuti Ma guarda quanti sono questi Hanno il controllo del settore Ecco Se non li fermiamo prenderanno tutti i settori Aspetta Luca Lo metto meglio So 2 Vedo 1 Non va piano Secondo me Luca ha finito i colpi Brutto lag Brutto lag Ma che Ma che Carro Ok vai Carro al punto rosso Componente disattivata E' disattivato Tutto Cazzo Come sono riuscito a evitarli Col cazzo Che me prendete Provo a fare E' il tornato Ma dimmene la madonna Mammo che c'entrava il tornato Vedo in po' se vedi qualcosa da qua Sono avvicino Vabbè dai Avvicino Ok vai Aspetta Aspetta Mi metto meglio Vai No il tornato No dai Non mi fa rovinare La giocata così Ah ok Ah per fortuna Se ne esce facile Mi sono proprio cagato sotto Dove 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 Aiuto aiuto Ma se in base loro Dove è Il settore alfa E' sotto controllo Alfa 1 in sicurezza Non lo vedo cazzo Aspettiamo in punto più o meno Un punto a casa Cioè vabbè Ma la posso Ma la posso La maggior parte dei settori E' sotto il nostro controllo A due luce A uno Aspetta La metto meglio Sarà sicuro D'entrata la casetta La colla Ok Eh te lo ruba Ah no Non è vero L'hai fatto tu Oh elicottero Tanto al melù Cazzo Siamo morti Vabbè L'unica cosa che posso fare Non fai i capi in cazzo Stanno a massa gravo Leo Leo se ci puoi dare una mano Cioè questo sta in base nostra Qualcuno con lo stinger ci è? Ci può aiutare? Dove è che sta? Ah qua Componente disattivata Fatto ok C'è un altro qua sotto di noi Il nemico sta attaccando Bravo 1 Ma questo è quello di trasporto Eh Obiettivi Charlie sotto controllo Settore in sicurezza Vattene va Allora Ci serve il C1 Oh c'è un elicottero che ci spara dalla base Più o meno Giù quel lag Mamma mia Ah ma erano sempre quei deficienti Prova a vedere se stanno sul tetto del C1 Hanno occupato il settore Charlie Palle Ah ok Lui ok Stanno attaccando uno dei nostri obiettivi Stanno attaccando uno dei nostri obiettivi E' quello a cui stai a sparare E' quello a cui stai a sparare E' quello a cui stai a sparare è vero non era lui di cazzo è io non riesco a capirlo da assicurarci nei settori, il nemico ne controlla molti veicolo stile, 150 gradi, 300 metri circa troppi settori rossi, dobbiamo riprenderceli mamma che partita è a